Buonasera, sono Molinaro Luca, candidato al Consiglio regionale per il popolo e la famiglia. Allora, noi siamo in lista per difendere la vita e la famiglia. La regione Liguria è in maglia nera per la denatalità e per il numero di aborti. Per questo, se volete sostenere la vita e far sì che la Liguria, di parte grazie a una crescita demografica, quindi del welfare, votate popolo della famiglia.